Ciao a tutti, sono sempre io Alessandro, amministratore del canale Commedia Alitaliana Innanzitutto chiedo scusa a tutti coloro che avevano visto ieri il video riguardante Suspiria di Luca Guadagnino e purtroppo l'ho dovuto eliminare perché c'era un grave problema di luminosità la luminosità era ancora più bassa del solito, per cui pensate un po' e ho dovuto cancellare il video sto cercando di migliorare la qualità dei video che carico sul mio canale ma purtroppo ragazzi io non ho tanto tempo a disposizione purtroppo il canale non può essere la mia priorità ma non perché sia meno popolare del mio canale storico ma perché semplicemente non ho tempo quindi un conto è ricaricare le clip un conto è mettersi lì a fare un video purtroppo non posso più neanche editarli perché chi me lo dà il tempo di accedere al computer ed editare il video purtroppo questo tempo ce l'ho soltanto durante il weekend quindi se voglio tenere attivo il canale anche durante la settimana o comunque quando vado a scuola devo ridurmi a questo sto cercando di alzare la luminosità il più possibile la qualità diciamo che non è pessima il problema è sempre la luce comunque di questo parleremo in un altro caso perché purtroppo ieri ci ha lasciati un grande attore un grande caratterista un'icona della commedia italiana Paolo Paoloni Paolo Paoloni non è stato soltanto il mega direttore di Fantozzi si è ricordato principalmente e giustamente per quel ruolo che è stato uno dei suoi ruoli più importanti ma è stato anche un simbolo un simbolo perché con lui se ne va un pezzo indelebile del cinema italiano e della commedia italiana ha preso parte anche a film come Di che segno sei il professor dottor Guido Darsilli eccetera 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 con il grande Alberto Sordi e sempre con il grande Alberto Sordi anche Lavaro del 90 ma anche stasera a casa di Alice di Carlo Verdone vacanze tra le 90 e 91 di Oldoini e la sua ultima esperienza risale al 2018 era il film Benedetta Follia proprio di Carlo Verdone con il quale ha lavorato per l'ultima volta prima che si ammalasse ha avuto una malattia abbastanza grave le cose vocali che poi purtroppo lo ha portato alla morte era presente in una delle scene iniziali se avete visto il film vi ricorderete sicuramente la barzelletta di padre Martinez era una scena con Carlo Verdone e la grande Lucrezia Lante della Rovere ci ha lasciati un grande ci ha lasciati un attorone un attore molto molto bravo che rappresenta anche un mondo che purtroppo esiste sempre meno non dico che non esiste più ma esiste pochissimo ormai che è il mondo dei caratteristi caratteristiche che hanno lavorato soprattutto con appunto Carlo Verdone possiamo ricordare Mario Brega la soralella, Angelo Infanti ma in generale hanno lavorato nella bellissima mitica la nostra cara commedia italiana per citare anche il nome del mio canale e quindi un canale che si chiama commedia italiana non può non soffrire io che sono l'amministratore non posso non soffrire di fronte alla scomparsa di Paoloni la cosa che mi fa arrabbiare perché vabbè mi dispiace molto per la sua scomparsa però c'è da dire che aveva anche 89 anni il 24 luglio ne avrebbe compiuti 90 beh quando se ne va un trentenne si sta più male questo è ovvio però è comunque un dolore un dolore di cui soffre soprattutto il cinema italiano anche perché lavorava ancora quindi chissà quanto avrebbe potuto ancora dare nonostante tutto ma la cosa che mi fa più arrabbiare è che anche in questo caso ne hanno parlato in pochissimi devo dire che a differenza del caso della scomparsa di Carlo Giuffredo il quale non ha parlato nessuno e sono venuto a saperlo grazie a Vincenzo Salemme che lo disse a tale quale show e lo ricordò giustamente in questo caso qualcuno ne ha parlato però io lo sono venuto a scoprire 5 ore dopo grazie a un post sulla community del canale Tubo Comico che saluto approfitto di questa occasione sicuramente non felice per salutarlo e per ringraziarlo ovviamente sto parlando di chi gestisce il canale per tutto ciò che ha fatto ha cercato anche di aiutarmi a salvare il mio canale principale il mio canale storico ma non ce l'abbiamo fatto comunque lo saluto è una persona meravigliosa e si vede anche da tutto il lavoro che fa e lo ringrazio lo ringrazio anche per avermi per aver fatto sì che anch'io scoprissi di questo triste di questo tristissimo avvenimento e allora io saluto Paolo Paoloni ciao Paolo grazie di tutto quello che ci hai dato perché ci hai dato tanto ci hai dato molto di più tu che non sei quasi mai stato il protagonista di un film di tanti altri protagonisti di film che non lasciano il segno perché non sei mai stato il protagonista assoluto di un film ma sei stato protagonista insieme ad altri ma sei stato comunque uno dei protagonisti di uno dei periodi più belli del cinema italiano che ahimè si chiama commedia all'italiana come il mio canale e hai preso parte a film italiani fino a Benedetta Follia quindi fino all'anno scorso un anno fa un anno fa ti ho visto in sala e mi sono emozionato ho detto cavolo questo è Paolo Paoloni perché non è riaccreditato almeno su Wikipedia sui post insomma sugli articoli che uscivano in quel periodo ho visto Paolo Paoloni sono rimasto così contentissimo e poi ce li hai lasciato quindi saluto il mega direttore ma saluto soprattutto Paolo Paoloni gli auguro buon viaggio e come si dice sempre insegna agli angeli cosa significa essere un caratterista ma anche cosa significa essere un attore cosa significa fare cinema ciao Paolo e grazie di tutto ciao ragazzi e sempre viva il cinema italiano nel quale Paoloni è stato fondamentale ciao ragazzi ciao